Dopo la protesta di qualche giorno fa a Teramo, messa in atto dagli operatori sociosanitari vincitori del concorso fatto nel 2021 perché non ancora assunti e che ha portato le direzioni strategiche delle ASL a Vezzano sul Monalacuila, Lanciano Vastochieti e Teramo a firmare le delibere aziendali per avviare le procedure di assunzione, ora a protestare sono i 1300 infermieri che hanno partecipato al concorso per 90 posti di lavoro presso la ASL di Teramo. Ma che da sei mesi attendono la gradatoria definitiva perché bloccata dai ricorsi, ricorsi su cui la decisione del TAR è slettata a febbraio 2023. Ma a spiegare la differenza tra le due situazioni che possono sembrare simili ma non lo sono è il direttore generale dell'ASL di Teramo Maurizio Iggiosia. Per quanto concerne la vicenda degli OS posso dire che oggi stamattina abbiamo firmato la delibere, è stata già pubblicata nel nostro sito, in pratica nel nostro albo quindi significa che daremo corsa all'assunzione dei vincitori del concorso, 22 unità che prenderanno servizio dal primo settembre, adesso dovranno espletare tutte le attività necessarie per poter essere assunti. Però ecco quello che va premesso per questa vicenda è che l'azienda non si è fatta condizionare da nessun atto, da nessuno di questi eventi che si stanno verificando in questi giorni perché noi avevamo le idee chiare sin dall'inizio. È ovvio che adesso si vede una certa similitudine tra i due concorsi, tra quello degli OS e quello degli infermieri. Loro hanno detto visto che, considerato che già per gli OS è stato fatto questo perché deve essere fatta la stessa procedura per noi. Però qui la situazione si pone un po' diversamente perché mentre per gli OS nei ricorsi nessuno ha chiesto annullamento, per quanto attiene la vicenda del concorso di infermieri sono tre ricorsi pendenti che chiedono l'annullamento della procedura. È ovvio che se io dovevo assumere 90 vincitori e dopo viene annullata la procedura significa mandare a casa 90 persone. Però ecco, neanche in questo caso stiamo facendo le riflessioni, ho convocato l'avvocato che ci sta difendendo Altar per la prossima settimana e lì andremo ad assumere delle decisioni in merito.